Ciao Elif, mica l'abbiamo fatto due volte, sai perché siamo qua? No. Di cosa parleremo? Sì. Di che parleremo? Di te. No, parleremo di tatuaggi. Tatuaggi? Sì. Perché i tatuaggi nel mondo del calcio sono una specie di status symbol, tanti calciatori hanno tatuaggi che sono diventati famosi e ci sono delle eccezioni, tipo te. Te non hai tatuaggi? No, no. Come mai? Non mi piacciono. Ok, quindi? Mi piacciono vedere. Ma così no. E questo è uno spunto interessante, però quindi non hai intenzione in futuro di fare tatuaggi? No, mai. Però mi hai detto che ti piace vederli i tatuaggi? Sì. Allora noi ci siamo chiesti una cosa, ci siamo chiesti chissà se una persona che non ha tatuaggi è comunque attenta ai tatuaggi, per cui io ti farò vedere le foto di quattro tuoi compagni di squadra, o meglio dei tatuaggi di quattro tuoi compagni di squadra, vediamo se li sai riconoscere, se sei stato attento all'arte sul loro corpo. Vediamo, non lo so. Ci proviamo? Ci proviamo. Li conosco, ma vediamo. Allora, questo è il primo. Continui, sì? È proprio Nikito. Vedi? Si vede di gamba. Andiamo al prossimo? Sì, sì, vai. Proviamo a vedere. Mamma mia. Allora, partiamo dalla gamba, sto punto. Sì, sì, già lo so, perché è politano questo, sì? È Matteo. Matteo. Però da cosa l'hai capito? Lo vedo tutti i giorni, dopo questo. Anche questa gamba è più corta di questa prima, sì. Il Colosseo, Roma, lui è romano. Anche questo ci sta. Anche questo? Anche questo ci sta. Vai, andiamo alla prossima. Mamma mia, sì, normale. Ciolito. Ciolito. Ha baciato tante volte quest'anno. Questo è il tatuaggio che è stato più discusso di quella settimana là. Questo è più facile. Questo nostro cane. Sai quale cane? Che cane? Mattia Solivera questo. Com'è difficile questo? Facile. Hai ragione, perché c'è la bandiera. È normale. Scusa, perché i cani? È perché così. È un cane. Quando facciamo la bandiera sempre viene addosso, si aggredisce, è così. Va bene, io direi che 4 su 4 te la sei cavata la grande. Sono già qui 5 anni, li conosco tutti. Ok, grazie Elif per aver partecipato a questo giochino che magari noi riproporremo. Ci vediamo presto sui canali del Napoli. Speriamo. Grazie anche a te. Grazie Elif. Grazie a te.